Ben trovati con il Metaset. Previsioni per questo venerdì 16 marzo, transito di nubi con probabili brevi rovesci su Vallo di Diano, Alburni e il Parco del Cilento. Veniamo a sabato, tempo ancora instabile e deboli piogge, attenzione alle temperature e le minime in calo fino a 8 gradi. Previsioni per questa domenica 18, continua il tempo perturbato sulle nostre zone, piogge deboli per tutta la giornata. E' tutto, buon fine settimana dal Metaset e da Mauro Ciutini.